Ciao, sono Gennaro Monte, sono nato dal Ghero, 17-7-63, attualmente occupo la posizione di economo presso una struttura alberghiera locale. Il mio ruolo è quello della gestione acquisti dei vari reparti dell'hotel. Per una mia maggiore professionalità ho deciso di frequentare il corso di Full & Beverage Manager 3.0 presso la dottoressa Paola Imparato, dove ho avuto la possibilità di apprendere nuovi metodi di lavoro. Quindi devo dire grazie Paola.